Benvenuti a Villa Frate, Villa Frate un evento indimenticabile, serenato al primo matrimoniale dei novelli scossi, Vincenzo e Maria Rosaria, auguri a figli e massi e femmine! E' un tipo come me che sembra stata apposta, e poi per me se c'è l'uomo di iniziai un po' di no, Vincenzo e Maria Rosaria, un evento storico per la nuova famiglia! Vincenzo e Maria Rosaria, promessi, e da quelli sposi, auguri a Villa Frate! Questo lo stiamo facendo per riconoscersi, i protagonisti della serata li dobbiamo riconoscere, lo farò a metto a tutti noi, non sappiamo che sono i protagonisti, mentre con questi cerchietti... Ok, auguri ancora, pace! Come ho detto pace, ecco, dall'altro lato! Camera meglio, all'altro lato! Benissimo, benvenuti e benvenuti a una festa indimenticabile, serenata al primo matrimoniale! Vediamo! Grazie! Grazie! Anche ci a te parlare! Cosa voglio! Rose rosse a Sipollaniere, dedicate ai nostri promessi e novelli sposi. Sì, gentilissimo. Gentilissimo pubblico invitato a scendere in pista, a danzare, a dare a noi compagnia i nostri protagonisti. Grazie. 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 Grazie.